CeraVe crema idratante è un trattamento viso e corpo per idratare le nire e la pelle secca e molto secca. È indicata per idratare in profondità la cute, per ripristinare la barriera protettiva di pelli irritate e disidratate, per donare comfort alle pelli molto secche, per mantenere a lungo l'idratazione cutanea di tutti i tipi di pelle. Si tratta di una crema senza profumo dalla texture ricca ma non unuta che idrata la pelle per 24 ore. Grazie alla presenza di tre ceramidi essenziali che aiutano a ripristinare la barriera protettiva della pelle, tecnologia MVE a rilascio controllato per un'idratazione 24 ore, acido ialuronico che aiuta a trattenere la naturale idratazione della pelle. Come si usa? Applicare generosamente ogni volta che se ne sente necessità sia sul viso che sul corpo. Avvertenze? Essendo dermatologicamente testata e ipollergenica può essere applicata su cute sensibile o irritata.